amici re e regine benvenuti in questo nuovo episodio della stone block come sempre vi ricordo di lasciare pollice in su perchè poi vi dimenticate quindi sono costretto a dirvelo e ragazzi ho fatto un patatrack ormai se non faccio fail non sono luck però questo è un fail grave ho rotto il controller da qui l'ho passato al centro perchè era più bello e volevo fare una cosetta e il problema che ora non so se è un caso però sapete che in tutti i miei mondi in tutte le mie serie di minecraft ogni qualvolta ho rotto la fornace di stacacchio di mod mi si è buggato il mondo guardate in alto a sinistra vado a 440 fps ok e prima andavo sempre così l'avevo locato a 120 però comunque andavo a questi fps e ora da quando ho rotto la fornace da 400 guardate passo a 150 di colpo e guardate come vado come vado proprio si vede che è frizzo quelle 370 150 200 poi vado qua se mi fermo salgono di brutto quando sto fermo quando fisso una cosa immobile ditemi aiutatemi aiutatemi quando corro guardate guardate che brutto guardate che brutto proprio mi sento rallentato è bruttissimo perchè fai gli sbalzi da 400 fps a 150 quindi questo sbalzo lo sento voi direte luck ma io gioco a minecraft con 22 fps tu hai 150 ti lamenti la mia non è una mentela di fps è una mentela che da 400 a 150 si sente perchè proprio mi da quelli comunque vado alle ciance da parte i cadaveri con le mutante che corrono in padella oggi nuovo episodio ho fatto questa stanza zacchete eh sono stato molto bravo dai di tale verità di tale verità sono stato molto bravo e hop stasera amici dovrei essere in live ok su twitch mi raccomando correte e anche se non sono in live ora voi potete comunque andare sul mio canale twitch liuk436 live e iniziare a fare iniziare a fare iniziare a fare iniziare a iscrivervi così già vi arriva la notifica attivate la campanellina dite mandami un email quando liuk è in live poi se proprio volete già che siete lì fate il sub la subscribe che grazie ad amazon prime è gratuita allora oggi voglio fare compacting controller quindi è doppio pistolone caspita doppio pistolone abbiamo bisogno di un po' di robetta oggi ragazzi facciamo un po' di cosette fate il subscribe ragazzi gratuito potete farlo anche adesso in questo momento tanto a me arriva la notifica poi stasera in live vi ringrazio ok e dobbiamo fare anche il draw e controller no l'abbiamo già fatto quindi mi servirebbe questo qua ma il drover che è il button non so che serve comunque mi serve la redstone mi serve il ferro e iniziamo a craftare iniziamo a craftare quindi pistoloni a gogo non ho legna stavo dicendo vabbè pistoloni a pistolone a gogo 28 facciamone facciamone una decina per il momento per il momento una decina poi vediamo se è il caso di farne ancora o meno facciamone toa 12 ok ora ne abbiamo 12 quindi possiamo fare questi qua per forza così dobbiamo farli non ho capito non l'ho capita per forza così dobbiamo farle cioè questo non l'ho capito aspetta 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 forse eh ok ok possiamo fare quelli normali e infatti dicevo me ne vengono 8 no ne voglio fare 12 ho detto cioè perdonami andiamo a prendere l'altra legna quindi vai forza forza dovete fare subscribe subscribe che vi ricordo che è un sostegno al me medesimo e il mio canale logicamente perché perché noi grazie al subscribe prendiamo una piccola percentuale a voi per esempio con amazon prime è gratuito se lo voleste fare con amazon prime se non avete amazon prime potete comunque fare un mese gratuito di prova allora ne possiamo fare altri 3 2 che sto combinando che sto combinando che sto combinando dove ho messo gli altri scusatemi eh raga cosa mi manca ah ok mi manca un po' di materiali infatti dicevo strano allora mi serve mi serve mi serve della stone mi serve la stone villa porca paletta non c'ho più stone la stone villa qua mettiamo a cosere mettiamo a cosere anche qui eh si ragazzi perché oggi queste chest dovrebbero sparire se riusciamo e poi grazie di cuore a tutti coloro che stanno donando quindi grazie di cuore perché un sostegno fa sempre comodo diciamo che almeno grazie a voi posso fare tantissime altre cosette giusto ora amici miei amici vostri amici tutti fatto 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 abbiamo 6 di questi qua ok ora questi 6 per esempio se io li andassi a mettere che ne so qua facciamone 3 e 3 che comunque sono pochissimi comunque sono pochissimi giusto mettiamo una torza qua una torzia una torzia ora ragazzi così che questo qua questo qua è il compacting il drawer è lo stesso di questo ma compatta se io metto la cobblestone dentro guardate mi fa sia la cobblestone che la cobblestone compressata che la cobblestone compressata ancora di più ok ora se io volessi ritirare non si può più ritirare eh ah ok ok vedete figata eh ora però voglio fare una prova una prova ulteriore eh vabbè qua mi stanno continuando a nascere sti cosi qua ho messo a fare questi qua e ok volevo provare a fare una cosa vabbè questa volta abbiamo in compagnia il mio amico Ender ciao Ender ed Er con l'ex linder vabbè coli avete capito volevo provare a fare una cosetta ok se io non posso non ce li ho non ce li ho allora andiamo a prendere della gravel per esempio vabbè Ender togli ti se io andassi a gravel di finiale un po' di roba vediamo se se riusciamo a prenderne quattro di qualcosa credo di no quella sfiga che abbiamo allora voilà voilà ecco qua quattro di questi si mettessi quattro di questi qua all'interno voi dite che mi li fa a quattro o li fa solamente a nove wow zacchete 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 pu 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 fantastico it's the fantastic for you babies perché io posso ritirare direttamente questi questa è una cosa ottima questa mi piace di questa mi sono innamorato ah vedete poi avendo tolto il controller ho perso anche con la baradam dentro che c'era sono contento sono contento sono contento sono molto ed era attento al grano lì allora possiamo andare avanti io a questo punto le crafterei e voilà ragazzi fatto fatto più o meno il design più o meno ora andiamo a fare una cosetta anglosassone importante questa va ragazzi ho preso spunto anche in un altro video che mi è piaciuta molto quindi ho detto caspita è figa questa cosa la voglio fare anch'io qual è il centro della stanza più o meno qua allora abbiamo craftare un vacuum hopper ok già fatto in precedenza già fatto in precedenza quindi facciamo un altro tanto sono tre ossidiane un ender pirla e un ender farla ok la faccia dell'occhio e l'occhio della terra della faccia ce l'abbiamo eccola qua abbiamo un po' di robetta nell'inventario che mi sto già stancando mi sto già nervosendo via via e via oh via puri tu che non mi serve più via puri tu che non mi serve più via puri tu che non mi serve più e ah ecco cosa c'avevo in tasca me ne ero completamente dimenticato devo andare a potenziare la fornacchia prendiamo anche ulteriore legna che potrebbe comunque servire e andiamo a potenziare ragazzi quest'oggi la fornacchia ok l'andiamo a potenziare la fornacchia e porca di quella paletta però eh porca di quella paletta però eh io qua ogni volta devo fare così chi è che non ha messo pollice in su ancora eh chi è che ancora non ha messo pollice in su e non ha scritto ancora nei commenti eeeh eeeh babà babar 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 ce la faccio madonna mia ah però lì c'è la torcia porca paletta porca paletta lo facciamo così guardate rompiamo lì ci mettiamo una torcia in modo che faccia luce sotto qui facciamo ok così così e così voilà tanto andiamo anche di qua ora dovremmo farcela via la torcia eeeh zacchete zacchete che è successo là ah non posso toglierlo e zacchete poi facciamo così zacchete 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 ora dovrebbe essere più grande infatti via la cobblestone che non mi serve ora ci sa molta più roba dentro vedete ora è molto più carino mettiamo le torzie e si le torzie le levie questa è spenta e questa è accesa e perché me le fa il contrario porca ok oh ora è bella ora è molto bella poi vedendo possiamo farla anche di vetro ok è molto più grande diciamo abbiamo due cestiche quindi cosa farei con le cestiche io farei una cosa del genere andiamo a togliere l'imbuto ok gli mettiamo la cestica qua e l'imbuto gli diciamo amico l'imbuto me lo devi imbutigliare qua ah aspetta è un casotto è un casotto che skill che skill è un casotto perché andiamo a fare così bacchete oh là qui mi gusta amico mi gusta abbiamo della stone abbiamo della stone signori nel magazzino si abbiamo della stone ho cambiato anche il mouse si vede come ho cambiato il mouse si vede che non mi intreccio più con la rotella eh sono molto contento sono molto contento ah ho un mouse che unboxai tempo fa mi ricordo manco qualche video feci mettiamo la cestica qua che poi la potenzieremo anche essa ma per il momento giusto eh tutto per il momento ma poi vedete che piano piano si torna indietro si potenziano le cose si fanno più carine più ordinate voilà ora qui per esempio potremmo fargli un'altra cosetta ma lo facciamo dopo andiamo avanti allora allora mi sono avanzati anche dei cubi che andiamo a mettere subitissimamente a posto voilà ragazzi 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 crafting branch allora tre ossidiane ce li abbiamo vero giuste giuste andiamo a fare un hopper mi manca del ferro porca miseria e cinque allora andiamo a fare un hopper voilà e il vacuum hopper voilà ora abbiamo bisogno di altre di quelle quindi andiamo a fare altre altre di queste qua ok facciamone pum 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 facciamone così facciamone così zacchete zacchete ok e zacchete me ne vengono ben dieci potrebbero bastare poi c'è una quest che mi serve assolutamente questa qua ragazzi mi serve assolutamente dello storage il controller slave capito lo slave slave mi serve assolutamente quindi abbiamo bisogno di 6 redstone 6 redstone 6 redstone no di qua 6 redstone 6 redstone ce li abbiamo 1 2 3 4 5 6 ce li abbiamo poi abbiamo bisogno di altra stone che li abbiamo e del quarzo porco il quarzolino ora 2 quarzi io non ce li ho io 2 quarzi non ce li ho ma c'è un però ma c'è un però aspettiamo un po' di qua si sta riempiendo di gente qua non so se non siete accorti magari qua il quarzo me l'han droppato no però il quarzo se io non erro sbaglio esce da andiamo a vedere dalle borsette verdi ok quindi noi andiamo al nostro negozietto e prendiamo le borsette verdi eh quanto è intelligente questa cosa che ho fatto poc'anzi ragazzi quanto è intelligente ora facciamo così svuotiamoci un attimo l'inventario ok buttiamo tutto nella borsetta qua un attimo giusto un attimo non disperate non disperate raccogliamo tutta questa roba e li buttiamo dentro tutta questa roba ok facciamo così un attimo non disperate facciamo così e ok vediamo un po' se mi da il quarzo dai forza forza ma tu non stand bello questo qua sono con minecraft minecraft no eh raga tutti insieme chiamamolo nei commenti minecraft perché mi si fa perché mi fa questi crash improvvisi perché solo a me ragazzi minecraft è crashato speriamo si riavvi lo riavviamo brutto quando capitano queste cose proprio quando hai poco tempo a disposizione io devo andare a lavorare minecraft ti devi muovere perché sennò oggi non faccio uscire il video porca paletta ho anche una riunione l'una e mezza ho una riunione l'una e mezza anche ragazzi panico e ansia caricamento del mondo speriamo bene caricamento del mondo panico e ansioline costruzione del terreno lo sta costruendo non lo so quello di minecraft col piccone così è quel 0% eh dai 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 raga che ansioline minecraft caricamento del terreno piove 40 fps 60 90 70 70 100 ok si è ripreso raga ci siamo oh quarzo vabbè vabbè ma allora ditelo vabbè vabbè io prima ho fatto così e ho cacciato il mondo ok ci siamo ok ragazzi ok mamma mia mamma mia mamma mia e mamma minecraft minecraft no raga che ca... si è chiuso si è chiuso minecraft lo sto riavviando por... il ca stato sicuramente si è chiuso qui non pi Probleme a durante la c岔 una mia čia il